Un saluto a tutti e bentrovati a questa conferenza. Visto che sono nuovo, è la prima volta che ho l'occasione e il piacere di partecipare alle conferenze organizzate dagli amici del loggione, mi presento. Sono Matteo Marni, storico della musica, cultore della materia per l'insegnamento di storia della musica all'Università Cattolica di Milano e direttore della Cappella musicale della Chiesa Prepositurale di Gorgonzola. Ci occuperemo in questa prima conferenza dei vari aspetti del Settecento musicale milanese. Prima di addentrarci però nel nostro argomento, ricordo che è possibile sfruttare un minimo di interazione che ci è concessa da questi mezzi elettronici, è possibile contattarmi per qualsiasi necessità, domanda, curiosità, approfondimento al mio indirizzo mail matteo.marni.unicat.it. Parlare di musica a Milano nel Settecento non è affatto scontato. Se l'Ottocento, infatti, è molto studiato in virtù e soprattutto dell'opera di cui Milano fu una delle capitali europee e mondiali, o il Seicento e il Cinquecento sono comunque ricordati in enciclopedie ma anche in pubblicazioni monografiche in virtù della centralità che la città di Milano ricoprì durante l'Episcopato di San Carlo Borromeo come faro per illuminare le nuove direttive e la direzione della musica sacra post-tridentina, sul Settecento e sulla seconda metà del Seicento si è detto ben poco. Cercheremo dunque di far riemergere dalle nebbie della storia non solo i nomi di alcuni compositori che resero grande e illustre la città di Milano a livello europeo, ma anche alcuni fenomeni che, come vedremo, nacquero a Milano ed ebbero ripercussioni a livello continentale. Senza escludere altri ambiti, di cui qualche parola diremo, principalmente furono due i centri d'attenzione e i punti di forza su cui poterono contare i musicisti e i maestri di cappella milanesi del XVIII secolo. Da una parte la produzione sacra, con la scuola della cattedrale, Gian Andrea Fioroni, maestro di cappella della cattedrale, didatta e corrispondente di padre Martini, e l'altro quello della produzione strumentale, in modo speciale la sinfonia che, come molti musicologi ormai hanno appurato e ormai concordano su questo aspetto, nacque a Milano con Giovanni Battista San Martini e i musicisti della sua cerchia. Non solo Giovanni Battista San Martini e Gian Andrea Fioroni dunque, ma almeno uno stuolo di altri venti maestri di cappella e musicisti per limitarci alla seconda metà del XVIII secolo, numero che si moltiplica e raggiunge e supera il centinaio di unità se consideriamo tutto il secolo e se integriamo in questo novero i maestri di cappella, i cantanti, i musici da cappella e gli strumentisti. Non si può fare un ragionamento a compartimenti stagni, però, tra la musica sacra e la produzione strumentale, la produzione operistica, la produzione cameristica. Infatti i maestri di cappella milanesi, Giovanni Battista San Martini su tutti, ma anche Carlo Monza, anche Melchiorre Chiesa, anche Francesco Pogliani, anche Giuseppe Vignati, anche Pietro Valle, anche tanti altri nomi che avremo modo di toccare e di approfondire un po' in questa nostra chiacchierata. Tutti questi personaggi dunque non si limitarono al solo ambito sacro, al solo ambito profano. I maestri di cappella a Milano operavano, si può dire, a 360 gradi. Prima dell'apertura del Conservatorio Milanese, istituzione napoleonica, fondata nel 1808, il titolo di maestro di cappella si conseguiva con lo studio. Con lo studio, o alla scuola della cattedrale, o alla scuola di altri musicisti. Ed è con questo titolo, col titolo di maestro di cappella, che i musicisti milanesi e forestieri si presentavano non solo ai concorsi per l'ottenimento di una piazza, ossia di un incarico, che fosse di maestro di cappella o di organista in una qualche importante chiesa cittadina, ma con il titolo di maestro di cappella si presentavano anche, ad esempio, al pubblico teatrale in qualità di compositori delle opere che andavano in scena, prima al teatro ducale e successivamente al teatro alla scala. La formazione dei musicisti milanesi fu in qualche modo locale, completamente locale. L'unico musicista del Settecento milanese che ebbe una formazione fuori dalla città e fuori dalla Lombardia, fu Gianandrea Fioroni, musicista originario di Pavia, che si formò negli anni Quaranta del Settecento a Napoli, alla scuola di Leonardo Leo. Tutti gli altri milanesi, a partire dai nomi noti, Giovanni Battista San Martini, Giovanni Battista Lampugnani, Carlo Monza, ebbero una formazione locale e cittadina. Il maestro di cappella era una figura dunque rispettata non solo dalla gerarchia ecclesiastica, ma anche e soprattutto dalla committenza aristocratica. Erano maestri di cappella, infatti, ad occuparsi della vita musicale nelle numerose residenze cittadine e anche nelle ville di delizia che costellavano quello che attualmente è l'Interland di Milano. Affrontiamo subito una figura imprescindibile, quello che da tutti i manuali di storia della musica è ricordato come il principale musicista milanese del Settecento, Giovanni Battista San Martini. Accumulò, col passare degli anni, varie piazze di maestro di cappella e se dobbiamo credere, oltre che ai documenti, anche a quanto raccontato da Charles Barney, musicologo, musicofilo e ricercatore inglese settecentesco che nell'estate del 1770 soggiornò per due settimane a Milano, San Martini divenne maestro di cappella di metà delle chiese di Milano. E concretamente possiamo leggere nel volume, edito poi da Charles Barney, una descrizione dell'attività milanese di Giovanni Battista San Martini. Luglio 1770, festa della Madonna del Carmine, Giovanni Battista San Martini, maestro di cappella della chiesa del Carmine, viene sentito all'opera da Charles Barney, e così possiamo leggere. La seconda messa che ascoltai oggi era stata composta da Battista San Martini ed eseguita sotto la sua direzione nella chiesa del Carmine. Le sinfonie erano ben costruite e con la vivacità e gli impeto caratteristici di questo musicista. Nelle sue composizioni le parti strumentali sono scritte bene, nessuno degli esecutori rimane a lungo in ozio, ed i violini soprattutto non hanno tempo di dormire. A volte sarebbe tuttavia desiderabile che frenasse la briga del suo Pegaso, poiché sembra proprio che corra al galoppo. Parlando fuori di metafora, la sua musica piacerebbe di più se fosse composta con meno note e meno allegri, ma nelle composizioni vocali l'impetuosità del suo genio lo spinge in una successione di movimenti rapidi che finiscono con l'affaticare sia l'esecutore che gli ascoltatori. San Martini è maestro di cappella in metà delle chiese di Milano ed ha composto un numero infinito di messe. Tuttavia non ha perso ancora nulla del suo slancio e della sua invettiva. E dice bene Barney, perché siamo nel 1770, quando San Martini, settantenne, può vantare almeno mezzo secolo di carriera e di attività come maestro di cappella. E come avremo modo di vedere, la sua opera fu instancabile, fu uno stacanovista, per soddisfare non solo le richieste delle moltissime cappelle musicali, ma anche le altrettante richieste provenienti dalle famiglie aristocratiche. Giovanni Battista San Martini è una figura capitale, imprescindibile, per quella che sarà la sinfonia come sarà conosciuta in Europa. La sinfonia è una forma musicale, non stiamo qui a cercare le origini e la genesi della sinfonia, ci limiteremo a dire che, come ben risaputo, col nome Sinfonia, con il titolo Sinfonia, già nel 600 e per la prima metà del 700 sono connotate moltissime composizioni di genere, consistenza, durata e organico differente. Sinfonie erano impiegate in apertura delle opere, le celeberrime sinfonie avanti l'opera, di Vivaldi, di Scarlatti, di Porpora, di tutti gli operisti italiani settecenteschi. Sinfonie erano adoperate nelle accademie, ossia nelle occasioni concertistiche pubbliche o private. Sinfonie erano impiegate anche per riempire i vuoti fisiologici nelle celebrazioni liturgiche. Tuttavia la sinfonia a Milano riuscì a cristallizzare alcune caratteristiche peculiari e da lì a diffondersi sfruttando questo trampolino di lancio straordinario in tutta Europa. San Martini, Lampugnani, Chiesa, Monza, tutti questi compositori e maestri di cappella milanesi, composero decine, centinaia di sinfonie che raggiunsero nel giro di un quarto di secolo la capitale dell'impero, Iemna. Infatti proprio la posizione di Milano che dagli inizi del Settecento era entrata a far parte dei possedimenti asburgici, era entrata nell'orbita dell'impero asburgico, contribuì a diffondere su livello continentale e ad accrescere la notorietà non solo delle sinfonie ma anche dei sinfonisti milanesi. Pensiamo ad esempio che ci sono testimonianze del 1737 da cui sembra che Vivaldi, chiamato ad inaugurare un teatro ad Amsterdam, oltre ad eseguire proprie musiche, diresse anche una sinfonia di San Martini. Non deve stupire che Vivaldi nel 1737 scelse una sinfonia di San Martini da eseguire, da aggiungere al programma delle sue musiche. Infatti se si ascoltano e se si analizzano le prime sinfonie di San Martini, composte negli anni 20 e 30 del Settecento, si noteranno molte analogie con gli omologhi lavori di Vivaldi. Quello che però rese fortunate e gettonate le sinfonie di San Martini a livello europeo fu il salto di qualità che il musicista milanese riuscì a compiere. Seppe infatti adeguare il proprio linguaggio e il proprio gusto musicale alle mutate esigenze del pubblico. Se le prime sinfonie sembrano vivaldiane e ad un primo ascolto un uditore non troppo esperto e non troppo avvezzo a riconoscere la mano del milanese pensa che queste sinfonie possano essere opere di Vivaldi, nelle sinfonie composte a partire dagli anni 40 e specialmente in quelle degli anni 50 e 60 del Settecento, San Martini volta pagina e aderisce, abbraccia senza esitazioni, il nuovo stile galante. Un linguaggio in cui emergono melodie cantabili, in cui ci si stacca dalla pratica del basso continuo come accompagnamento e anche la linea bassa, i violoncelli, il clavicembalo, il contrabbasso, in qualche modo concertano e non si limitano ad accompagnare e soprattutto si assiste ad un'implementazione dell'organico strumentale. Se le sinfonie di Vivaldi e le prime sinfonie di San Martini sono destinate al solo ensemble d'archi, le sinfonie composte a partire dagli anni 40, 50 e 60 del Settecento aggiungeranno i corni, gli oboi e i flauti, elementi che daranno un arricchimento timbrico alla tavolozza di queste sinfonie. San Martini, infatti, oboista lui stesso, memore dei suoi esordi, amplia l'organico necessario per le proprie partiture. Ma il compositore poteva operare una tale scelta in virtù del fatto che Milano all'epoca possedeva una delle migliori orchestre non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Tant'è che l'orchestra che il Teatro Ducale e la Cappella di Corte condividevano, perché i musicisti erano i medesimi, era una delle più ben fornite non solo dal punto di vista del numero dei musicisti, non solo dal punto di vista della qualità dei musicisti stessi, ma anche per quel che riguarda il virtuosismo e l'abilità degli stessi musicisti nel suonare. Tant'è che ci sono testimonianze di cronache che raccontano che alla metà degli anni 50 Giovanni Battista San Martini, che era solo organista della Cappella di Corte ma già facente funzioni di maestro di Cappella di Corte, eseguiva nel periodo estivo per il diletto dell'aristocrazia meneghina, ma anche dei popolani, anche della gente di condizioni più umili, delle sinfonie all'aperto per rinfrescare, se non i corpi almeno le menti, dei milanesi dell'epoca sugli spalti del castello sforzesco. Dunque che cosa caratterizza la sinfonia milanese e che cosa l'ha resa il modello da cui avrebbero attinto, Mozart, Haydn e tutta la tradizione musicale sinfonica successiva. La sinfonia milanese, la sinfonia di San Martini e dei musicisti della sua cerchia, originariamente è articolata in tre movimenti e resta articolata in tre movimenti, questo è importante ribadirlo. Si apre con un movimento di tempo veloce, un allegro, come molto spesso scrive San Martini, un allegro con spirito, allegro con fuoco, si assiste ad un secondo movimento generalmente in tempo lento e generalmente in modo minore quando la sinfonia ha un impianto invece di tonalità maggiore e soprattutto un terzo movimento in tempo ternario. Nel terzo movimento proprio si vede l'evoluzione del gusto stilistico e del linguaggio musicale. Se infatti le prime sinfonie di San Martini come quelle di Vivaldi adottano come tempo finale un presto, quindi un tempo ternario ma veloce, a partire dagli anni 50 il presto sarà sostituito con il minuetto. Il minuetto è sempre un tempo ternario, una danza meglio, in tempo ternario, ma è un elemento caratteristico della società e del gusto musicale dell'epoca galante, in cui ricordiamo l'epoca galante sono i decenni centrali del settecento, quel periodo che funge da raccordo fra l'ultima generazione di musicisti e di repertorio barocco e quello che sarà invece il classicismo vero e proprio. Non solo, Giovanni Battista San Martini introduce sistematicamente, almeno nel primo movimento delle sue sinfonie, ma anche poi negli altri movimenti capita che sia presente, quella che sarà una cifra stilistica o meglio un elemento formale tipico e caratteristico della sinfonia successiva, cioè la forma sonata. Analizzando dal punto di vista formale i primi movimenti delle sinfonie di San Martini, si vede che il compositore ricorre sistematicamente alla forma sonata. Vi propongo ora l'ascolto del primo movimento della sinfonia in sol maggiore numero 39 di Giovanni Battista San Martini, una delle sinfonie più note e più eseguite in programmi di concerto negli ultimi anni del compositore milanese, in cui si può sentire il momento di congiunzione fra il periodo barocco, la prima maniera san martiniana, quindi le sinfonie tra virgolette vivaldiane, e le sinfonie della maturità con un linguaggio più proprio dello stile galante. Grazie a tutti. 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 europeo e continentale non fu legata semplicemente alla circolazione delle partiture, specialmente delle sinfonie, che sappiamo comunque gli venivano commissionate a distanza dall'aristocrazia viennese, ma è legata anche all'esperienza di didatta e maestro che Giovanni Battista San Martini ricoprì e praticò instancabilmente nel corso della sua lunga carriera. Ricordiamo due nomi eccellenti, due su tutti. Il primo, negli anni 30 del Settecento, Gluck, che rimase a Milano quattro anni alla scuola di Giovanni Battista San Martini e si ricorderà del proprio maestro milanese all'interno di alcuni lavori strumentali e anche all'interno di quelle che poi furono le espressioni più tipiche e più proprie della sua creatività musicale, le opere, in cui alcune sinfonie introduttive di opere di Gluck sono prese direttamente da sinfoni di San Martini. E l'altro musicista, ancora più significativo, Johann Christian Bach, il più piccolo dei figli del grande Johann Sebastian, che fra gli anni 50 e 60 del Settecento, quasi dimenticando la lezione paterna, si trasferì a Milano, si fece cattolico, ottenne la piazza di primo organista del Duomo per quattro anni, fu a sua volta maestro di cappella di alcune chiese di Milano, ad esempio Santa Maria di Caravaggio, e poi forte della lezione milanese si recò a Londra dove fece fortuna e dove, guarda caso, incontrò un bambino, un poco più che un bambino, in viaggio di formazione, che altri non fu che Wolfgang Amadeus Mozart. Cosicché Mozart indirettamente, si può dire, sia stato non allievo ma comunque ricettore della lezione di Giovanni Battista San Martini. Tant'è che il piccolo Mozart, all'inizio degli anni 60, aveva in modo di frequentare lungamente Johann Christian Bach a Londra. E Johann Christian Bach a Londra era appena arrivato da Milano, fresco, si può dire, di studi, e molto ben ferrato sulla pratica musicale milanese. Tant'è che una delle prime composizioni mozzartiane che risalgono proprio a quel periodo sono ispirate sia nella forma che proprio nella conduzione delle parti, nella scelta degli strumenti e in altri aspetti dalla produzione di Johann Christian Bach. Quindi si può dire che anche Mozart fu indirettamente influenzato dalla scuola milanese. Ma sappiamo anche che Mozart, nei soggiorni milanesi, di cui quest'anno ricorre anche il 250esimo anniversario. Mozart ebbe modo di soggiornare a Milano tre volte fra il 1769 e il 1773 e l'unico, uno dei pochi musicisti di cui si ricorda lui e il padre Leopold all'interno del proprio epistolario fu proprio Giovanni Battista San Martini. Quindi un musicista molto importante, forse un po' dimenticato dai milanesi e dagli italiani, ma che sicuramente ricoprì un ruolo fondamentale, capitale, all'interno della storia della musica europea del Settecento. Questo per quel che riguarda la sinfonia, ma Giovanni Battista San Martini, come ho già detto in precedenza, non fu solo sinfonista, bensì fu anche maestro di cappella, per dirla con Barney, di metà delle chiese di Milano. I primi incarichi, anche prestigiosi, li ricoprì a partire dagli anni venti, subentrò al proprio maestro come maestro di cappella della Basilica di Sant'Ambrogio e poi via, uno dietro l'altro accumulò titoli Santa Maria delle Grazie, Santa Maria del Carmine, Santa Maria Segreta, la Cappella Reale, di cui fu organista per parecchi decenni e nel 1769, con la morte del predecessore Giuseppe Vignati, divenne finalmente maestro di cappella. La produzione sacra di San Martini, molto significativa, è conservata in larga parte negli archivi italiani e anche esteri e testimonia proprio quello che abbiamo sentito dire da Barney, quindi una convivenza nella cappella musicale di quelli che erano i musici, cioè i solisti della parte vocale, e soprattutto la sinfonia, dove a Milano con sinfonia non si intendeva solo il genere musicale della sinfonia strumentale, ma con il termine sinfonia si indicavano anche i musicisti strumentisti che intervenivano nelle esecuzioni ecclesiastiche. Il nome di Giovanni Battista San Martini, per cercare di concludere questo capitolo, ma che non si può esaurire così rapidamente, è collegato ad un'altra iniziativa tipica del mondo musicale milanese settecentesco, che sono gli oratori quaresimali rappresentati nella chiesa di San Fedele. Nella chiesa di San Fedele, o meglio per dirla con il nome settecentesco nella casa professa dei gesuiti di San Fedele, avevano sede alcune confraternite laiche cittadine. Una delle più potenti di queste confraternite laiche è sicuramente quella del Santentierro, una confraternita fondata alla metà del Seicento, in epoca dunque spagnola, per onorare e per venerare e meditare i misteri della passione di Cristo. Una devozione tutta spagnola, tipica dell'ambiente religioso e della sensibilità religiosa spagnola, importata a Milano, con cui il suo ducato all'epoca era possedimento spagnolo. Questa confraternita del Santentierro era composta, lo dico per curiosità, da 33 membri dell'aristocrazia cittadina, meglio se membri di provenienza o comunque di tendenza filo spagnola, 33 al ricordo degli anni in cui visse Nostro Signore. In questa confraternita, in questa congregazione, era invalsa ormai da qualche tempo, sicuramente dagli anni Ottanta del Seicento, una pia pratica che consisteva nella meditazione dei misteri della passione e morte del Signore attraverso la musica, e questo era reso possibile, grazie all'allestimento nei venerdì di quaresima, di oratori e cantate sacre a tematica quaresimale o sulla passione. Questo aspetto, che a un primo acchito può sembrare squisitamente devozionale, squisitamente religioso, nasconde invece un'esigenza molto più pratica e molto più cogente per l'aristocrazia milanese. Come si sa, infatti, nei tempi forti dell'anno liturgico, quindi in avvento e in quaresima, le rappresentazioni teatrali erano sospese, gli spettacoli pubblici erano sospesi, a meno che non si trattasse di accademie vocali o strumentali a sfondo religioso o comunque edificante. Per sopperire quindi alla chiusura forzata dei teatri che si protraeva per oltre sei settimane nel tempo di quaresima, l'aristocrazia cittadina riuscì ad escogitare questa scappatoia che prevedeva l'esecuzione ogni venerdì di una cantata nella cripta della chiesa di San Fedele, nello scurolo, nella cappella sotterranea dedicata proprio alla contemplazione del Cristo morto. La carica di maestro di cappella della congregazione del Sant'Entiero, che era molto prestigiosa, molto ben pagata e molto ambita dai musicisti milanesi, fu ricoperta da Giovanni Battista San Martini esattamente per 50 anni, dal 1723 al 1773, anno della soppressione della compagnia di Gesù e di conseguenza della soppressione di tutte le confraternite che erano ospitate dalla casa professa di San Fedele di Milano. Giovanni Battista San Martini compose dunque almeno 200-250 cantate quaresimali. Sopravvivono i libretti di molte di queste composizioni, ma purtroppo ci sono state tramandate solo le partiture di cinque oratori composti da San Martini. Tutto questo excursus non vuole essere solo un approfondimento un po' opzioso su uno degli aspetti della produzione di Giovanni Battista San Martini, ma vuole essere in qualche modo lo svelamento di un dubbio che è rimasto pendente e che consiste nella spiegazione del fatto che Giovanni Battista San Martini nella sua lunga carriera si è dedicato praticamente a tutti gli aspetti della musica vocale e strumentale praticati all'epoca, ma non si è mai dedicato sistematicamente alla scrittura di lavori teatrali. Sappiamo che San Martini scrisse un'unica opera per il teatro di Lodi, in epoca giovanile possiamo dire, alla fine degli anni venti, il Mehmet, alla cui non seguì nessun altro titolo teatrale. Il fatto, possiamo credere a buon diritto, è che San Martini dovette dedicarsi letteralmente anima e corpo nella composizione di quest'immane ciclo che si protrasse per il corso di quasi tutta la sua vita professionale delle cinque cantate annuali per le celebrazioni dei venerdì di quaresima della Cappella del San Tentiero. E a questo proposito, prima di cambiare argomento ed arrivare a parlare più propriamente di musica sacra, ma la musica sacra non esclude qualche altro approfondimento sul teatro, sui cantanti da teatro e tutto quello che può essere legato a questo aspetto, voglio proporvi l'ascolto di un frammento, di un'aria, di una delle cantate quaresimali di San Martini superstiti, il pianto delle piedonne andato in scena, debuttato, nel 1751 a Milano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'aria che abbiamo appena ascoltato, questo breve frammento, è interpretata da un sopranista. Questa scelta, stilistica e consapevole, è stata compiuta proprio per avvicinarsi il più possibile alla prassi esecutiva milanese settecentesca. Lo dico a beneficio di quanti ci stanno ascoltando, questa registrazione è una registrazione amatoriale dal vivo di un'esecuzione del 2019 del pianto delle piedonne, l'oratorio di Giovanni Battista San Martini, eseguito dalla cappella musicale di Gorgonzola sotto la direzione di chi vi parla. Questa scelta, appunto, è stata consapevole e intenzionale. Essendo l'aria di Veronica, una delle piedonne che assistettero da lontano alla salita al calvario di Gesù, avrei potuto benissimo affidare questa parte ad un soprano donna. Ma questo non era possibile. A Milano, infatti, per tutto il Settecento e per buona parte anche dell'Ottocento, perdurò la pratica di annoverare fra le fila dei musici di cappella, cioè dei cantanti delle cappelle musicali, i castrati. Un mio studio recente, in fase di pubblicazione, si è occupato proprio di fare un conto, una stima, di quanti evirati cantori, quindi castrati, musici, soprani o contralti, cantassero nelle cappelle musicali milanesi nella seconda parte del Settecento. Il risultato di questo studio è stato sorprendente. Ho censito oltre 30 castrati, dediti principalmente e esclusivamente al servizio delle cappelle musicali. A questo numero, assai ingente, perché dobbiamo considerare che si trattava di musicisti evirati che cantavano solo in chiesa, come questi stessi scrivevano nelle lettere con cui cercavano di ottenere qualche piazza di musico soprano o contralto nelle cappelle cittadine, A questo numero, dicevo, bisogna aggiungere i soprani molto più ricercati e acclamati, i cosiddetti primi uomini che cantavano e venivano scritturati dagli impresari per le opere teatrali. Milano, città culla dell'illuminismo italiano, primo ricettore delle istanze illuministiche provenienti dalla vicina Francia, era sede di un illustre intellettuale, l'abate Giuseppe Parini. Per un caso fortuito, le vicende di Giuseppe Parini e di Giovanni Battista San Martini si incrociarono nell'ottobre 1762, quando l'abate Parini prese le difese della figlia Marianna di Giovanni Battista San Martini schiaffeggiata dalla duchessa Serbelloni. Non è questa la sede per occuparsi di questo gossip dell'epoca, ma invece citeremo e citiamo Giuseppe Parini per quanto scrisse in una delle sue prime odi, intitolata significativamente La Musica. Le odi furono componimenti poetici, polemici, che se la prendevano e stigmatizzavano alcuni stravizi e alcuni malcostumi della società aristocratica milanese settecentesca. Nell'ode dedicata alla musica, in particolare, Parini se la prende contro la pratica dell'evirazione e comincia con questo incipit molto significativo. A borro in sulla scena un canoro elefante, che si strascina appena sulle adipose piante, e manda per gran foce di bocca un fil di voce. Ai per allo spietato genitor che premiero tentò di ferro armato l'esecrabile e fiero misfatto, onde si duole la mutilata prole. Questo, parafrasando, è un attacco palese alla pratica dell'evirazione, pratica che comportava un sicuro rendiconte e ritorno economico alla famiglia, nel caso, però, in cui lo sventurato fanciullo cantore fosse sopravvissuto all'operazione, e le statistiche parlano, infatti, di una sopravvivenza del 10%. Ad ogni modo, il fenomeno e la presenza degli evirati cantori a Milano, tanto in ambito sacro quanto in ambito profano, è sicuramente uno dei fattori più caratteristici e più significativi del Settecento musicale milanese. Ci limitiamo, in questa sede, a ricordare un nome su tutti, Luigi Marchesi, il più celebre musico soprano milanese. Musico soprano che intraprese la propria carriera dapprima come allievo della Cappella del Duomo, successivamente come musico della Cappella di San Celso, e che poi, dalla metà degli anni Settanta del Settecento e fino all'avvento di Napoleone a Milano, ebbe una carriera fulgida, costellata di successi e di acclamazioni, di soddisfazioni in tutti i teatri italiani ed europei. I musici soprani, al servizio delle cappelle musicali e i primi uomini, scritturati dagli impresari teatrali, condividevano molto spesso la scena e condividevano gli stessi ambienti di lavoro. Non è difficile trovare musici di cappella impiegati con ruoli secondari in teatro, o primi uomini di teatro che per occasioni straordinarie partecipavano alle funzioni religiose. A questo proposito, a mo' di anello di congiunzione fra la sfera teatrale e la Chiesa, un po' per sottolineare anche quello che è il titolo formale di questa chiacchierata fra il teatro e l'altare, mi piace ricordare quanto avvenne nel 1773, dove a Milano Venanzio Rauzzini, il primo uomo interprete del Lucio Silla mozzartiano, opera che andò in scena per la stagione di carnevale del 1773, fu anche il primo interprete del mottetto exultate e iubilate composto dal genio di Salisburgo per i festeggiamenti della chiesa di Sant'Antonio Abate in Milano nel gennaio del 1773. Questo caso emblematico non solo fa vedere come la sfera sacra e la sfera profana fossero molto più fluide e ci fossero molti punti di contatto, ma anche mi permette di arrivare ad introdurre uno degli elementi caratteristici della produzione musicale milanese settecentesca, ovvero il mottetto sacro. Il mottetto sacro è una costante, è un elemento comune a tutte le città e a tutte le cappelle musicali di ambito cattolico, sviluppatosi dalla fine del Cinquecento con l'emersione della monodia, con il distaccamento della monodia rispetto alla polifonia, da subito vennero composti i mottetti su testo latino per riempire alcuni momenti, alcuni vuoti della liturgia. Il mottetto, tuttavia, fu a Milano uno degli elementi caratteristici della produzione sacra. In modo particolare, proprio l'exultate jubilate di Mozartiana Memoria fece scuola e dopo l'esecuzione del 1773, cui probabilmente assistettero anche maestri di cappella ed altri esponenti del mondo musicale milanese, il mottetto sacro ebbe una straordinaria fortuna, specialmente il mottetto per canto solo, cioè per soprano solo e organo concertante o soprano solo e strumenti. In modo particolare, uno dei maestri di cappella milanesi che all'epoca si stava affacciando sul lagone musicale cittadino, Carlo Monza, fece tesoro di questa esperienza e compose negli anni 80 e 90 alcuni gustosissimi mottetti per voce sola e organo concertante in cui sembra proprio di sentir riecheggiare quanto già composto da Mozart nel 73 con il suo Exultate jubilate. Non solo Mozart, però, ma tutta una serie di autori cittadini, locali, che fecero scuola e che ebbero molta fortuna. Gian Andrea Fioroni, l'ho citato in precedenza, ora arriviamo a spendere due parole su questo maestro di cappella, Pavese, nato nel 1716. Fra gli anni 30 e 40 si spostò, si trasferì a Napoli per perfezionarsi alla scuola di Leonardo Leo. Tornato in Lombardia, ottenne nel 1744 la carica di maestro di cappella del Duomo, carica che ottenne e mantenne per oltre un tentennio, sino alla morte avvenuta nel 1778. Gian Andrea Fioroni, a differenza di altri musicisti che lavoravano in altre cappelle musicali, fu in qualche modo obbligato a comporre la sua musica per i servizi liturgici quotidiani della cattedrale milanese in quello che all'epoca veniva definito lo stile osservato, lo stile grave e lo stile legato. Perché queste definizioni? Perché l'influsso inevitabile della musica profana sulla musica sacra si rese sempre più evidente e sempre più consistente dalla fine del XVII secolo. Nel Settecento, nella prima metà del Settecento, e poi via degradando per tutto il secolo XVIII e poi ancora nel XIX, il confine fra musica sacra e musica profana era molto labile. Il repertorio era distinguibile solamente per il testo che veniva intonato. E se escludiamo esempi di contrafacta, cioè di composizioni nate per un uso profano, riadattate al Tempio con un testo latino sacro, anche le composizioni composte pensando espressamente e in prima istanza per la chiesa non differiscono sostanzialmente, per quel che riguarda il linguaggio stilistico, da quanto si poteva sentire in accademia o in teatro. Tuttavia a Milano il Duomo rappresentava un baluardo e una roccaforte della tradizione musicale ambrosiana. Come si sa, la città di Milano conservava all'epoca una particolare condizione celebrativa, dettata dalla presenza contemporanea dei due riti liturgici, il rito ambrosiano e il rito romano. Il rito ambrosiano veniva ufficiato nelle chiese diocesane, mentre il rito romano era seguito dalle numerosissime chiese annesse a monasteri e a conventi ufficiati dal clero regolare. Se oggi pensiamo alla città di Milano e alla diocesi di Milano, in cui il rito ambrosiano va per la maggiore, è celebrato quasi esclusivamente il rito ambrosiano in diocesi di Milano, all'epoca non era così. Forse nel forese era più facile che si celebrasse all'ambrosiana, come si diceva, ma in città la condizione era di parità. Infatti, delle oltre 200 chiese attive a Milano e ufficiate a Milano, prima delle due tornate di soppressioni del 1782 ad opera di Giuseppe II e del 1796 ad opera dei francesi, da queste 200 chiese, la metà esattamente era ufficiata da comunità religiose, di religiosi regolari, quindi in rito romano, l'altra metà da comunità parrocchiali affidate al clero diocesano, quindi di rito ambrosiano. Questa condizione particolare comportò la creazione di una scuola musicale milanese, tale per cui si cercava di rispettare le peculiarità non solo di entrambi i riti, ma anche di entrambe le esigenze liturgiche. Cioè, rifacendosi ancora al periodo del Concilio di Trento e alle prescrizioni imposte da San Carlo Borromeo, estremo difensore della liturgia e promotore della nuova sensibilità musicale post-tridentina, che fu uomo di peso al Concilio di Trento, ma che poi ebbe un glorioso episcopato milanese sulla cattedra di Sant'Ambrogio, San Carlo, nei sinodi diocesani istituiti da lui stesso, si occupò di liturgia e anche di musica sacra, arrivando a ribadire e a sancire in qualche modo imprimato del testo sulla musica, imprimato della parola sulla melodia. Che cosa vuol dire? Secondo San Carlo la polifonia, che veniva comunque conservata in ambito cattolico e si era sventato il pericolo che si era concretizzato di estromettere la polifonia e salvare solo il canto fermo nella liturgia cattolica, superato questo scoglio e questo rischio, San Carlo comunque decise, in modo molto tenace, di difendere il primato del testo sacro sulla melodia. Quindi propose un nuovo modo di scrivere, di concepire la musica sacra polifonica. Musica sacra polifonica, pensata in polifonia perfettamente verticale, in modo tale che senza contrapunto eccessivo, senza ingressi sfalsati, senza imitazione e senza figurazione eccessivamente ornata, il testo sacro fosse sempre comprensibile e pienamente intelligibile in tutte le sue parti. Questa caratteristica perdurò e perdurò a lungo, ma i maestri di cappella milanesi, che si trovavano a dover gestire contemporaneamente chiese di rito romano e chiese di rito ambrosiano, pensarono di ottimizzare questi aspetti e di unirli in uno stile musicale proprio di Milano. Tale per cui la sinfonia, elemento caratteristico del mondo musicale milanese, della pratica strumentale milanese, si trovava ad eseguire ampi preludi sinfonici strumentali alle composizioni sacre e impreziosiva gli interventi del coro, delle quattro voci, che intonavano invece il testo sacro con melodie perfettamente omorritmiche, con un andamento perfettamente verticale, senza compromettere la comprensibilità del testo. Ascoltiamo dunque un esempio di questo stile musicale sacro milanese con l'incipit di un Gloria di Agostino Quaglia, musicista di cui converrà a spendere due parole dopo l'ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prima di questo escursus sulla musica in uso nelle chiese di Milano, accennavo a Gian Andrea Fioroni e al suo periodo di formazione napoletana. Tornato in Lombardia ottenne nel 44 l'incarico di maestro di cappella del Duomo e seppe far tesoro della tradizione musicale ambrosiana propria della cattedrale. Nel 700 e ancora più nell'Ottocento la cappella musicale del Duomo fu custode di una tradizione che altrimenti sarebbe stata fagocitata dall'influsso della musica profana sulla musica sacra. La cappella musicale del Duomo, che aveva solamente un organico vocale composta nel 700 da castrati e voci virili, eseguiva tutti i giorni in liturgia musica polifonica a quattro parti. Nei giorni feriali, come testimoniato anche da Barney, si eseguiva una specie di falso bordone, cioè una musica polifonica in polifonia verticale in cui le quattro voci cantavano in sostanza degli accordi, una successione di accordi perfetti. Mentre nelle solennità e nelle domeniche si eseguiva un repertorio polifonico che poteva essere di due stili, di stile pieno o ambrosiano, non dissimile da quanto cantato nei giorni feriali, o di stile concertato. Stile concertato perché, mediante l'utilizzo anche di solisti di parte vocale che interagivano e si intercalavano al coro, era possibile far concertare le varie parti, che fossero i solisti o che fosse l'accompagnamento concertato dell'organo solista, perché altro elemento distintivo della cappella della cattedrale, l'organo era l'unico strumento impiegato nell'accompagnamento dei riti liturgici e della musica sacra, proprio come stabilito dal concilio di Trento e come ribadito periodicamente dagli arcivescovi di Milano. Gianandrea Fioroni fu il corrispondente privilegiato, di una corrispondenza epistolare, di padre Martini, Giovanni Battista Martini, francescano bolognese, il più illustre, apprezzato e rispettato teorico musicale mondiale del XVIII secolo. Gianandrea Fioroni prima e Agostino Quaglia, che gli successe alla direzione della cappella musicale del Duomo, dopo il passaggio di Nicola Zingarelli, di Giuseppe Sarti e di Carlo Monza, i primi due noti compositori italiani, il terzo maestro di cappella milanese, Agostino Quaglia, dicevo, incarnò nella propria posizione e nei propri incarichi tutti gli aspetti del mondo musicale milanese, un po' un novello San Martini. Agostino Quaglia, infatti, cominciò la propria carriera negli anni settanta del Settecento, niente di meno che come organista della cattedrale. Dal 1782 divenne maestro di cappella futurista del Tempio di Nostra Signora dei Miracoli presso San Celso. Futurista non ha niente a che vedere con la corrente artistica novecentesca, ma futurista è un'espressione tipica del gergo musicale milanese, come altre espressioni, che indica quel maestro di cappella che pur di ottenere la piazza, l'incarico di maestro o organista, è disposto, a volte per parecchi anni, a supplire gratuitamente il maestro di cappella titolare. Agostino Quaglia fu futurista, maestro di cappella futurista del Santuario di San Celso, dal 1782 al 1787, quando, con la morte di Giovanni Lorenzo Fascetti, maestro di cappella titolare, poteva a sua volta ottenere la titolarità. Nel 1801, con la morte di Carlo Monza, ottenne contemporaneamente la direzione della cappella del Duomo. In questo periodo, Agostino Quaglia ebbe modo di praticare due diverse maniere di comporre ed eseguire musica sacra. La musica di stile osservato, di stile grave, legato, ambrosiano, per la cattedrale, e la musica di stile più proprio milanese non solo per San Celso, ma anche per tutte le altre chiese presso le quali ricopriva il titolo e il ruolo di maestro di cappella, San Giorgio al Palazzo, San Tommaso in Terra Mara e altre chiese cittadine. Un esempio di questa pratica musicale, di musica di repertorio concertato fra il solista e anche gli strumenti, in questo caso, è un'area, il cui ascolto vi propongo immediatamente, tratta da un Gloria, manoscritto inedito dell'archivio del fondo musicale del santuario di San Celso, eseguito in prima esecuzione mondiale, ancora una volta, dalla mia cappella musicale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.